... Ho lasciato la bici, adesso vado a farmi una bella camminata su nel vulcano. Dove sono i sindacati qua? Sindacalisti italiani, venite a lavorare qua, va, che ce n'è da fare per voi qui? La gente si fa un mazzo tanto portare lo zolfo su e giù e noi siamo qua da turisti merenderos a camminare, a fare gli avventurieri. Ha, l'hoffit.